Aggiornamento cospledia, abbiamo appena fatto salire a bordo il sottotenente Michele Marciante Avevamo detto sottotenente o l'abbiamo promosso? Sottotenente Allora, riepilogo, qua c'è il capitano Vivona, poi abbiamo il sottotenente Dario Stagno Il sottotenente Michele Marciante e il sergente istruttore Benito Campo Lui è quello che dà le istruzioni per questo istruttore Sergente ci dia un'istruzione Mi raccomando ragazzi, sempre prudenza Ok, ottimo, distillati di saggezza Bene, dica qualcosa di saluto Arrivederci Ottimo, ciao